ciao a tutti cosa ci deve essere sull'altare di una strega vediamo un po ci deve essere l'incenso a est a rappresentare l'elemento aria a sud una candela accesa a rappresentare l'elemento fuoco a ovest dell'acqua a rappresentare per l'appunto l'acqua a nord del sale a rappresentare la terra altre cose che ci devono essere sull'altare una piantina a rappresentare il mondo vegetale delle piume o altro a rappresentare il mondo animale una pietra o più pietre a rappresentare il mondo minerale poi quando si fa il rito tendenzialmente si tende a donare qualunque cosa esempio non so un pezzo di radice di zenzero all'altare o non so un aglio una cipolla poi giustamente le nostre divinità io in questo caso ho il mio Gesù di qua ho Gesù Giuseppe Maria la mia Bibbia sempre a portata di mano e poi vicino a me tengo quello che può essere utile tipo gli oli, questo qui è il mio olio preferito di lavanda preferito, quello che uso di più tra le altre cose olio d'oliva, aceto qua abbiamo una serie di spezie incensi di ogni tipo spezie fatte in casa, spezie comprate, quel che passa al convento il mobiletto è molto fai da te come si è saputo le streghe riciclano tutto con questo breve video una pillola oggi direi vi saluto, ciao a tutti